ragazzi oggi ricettina ma chiama una mia amica toscana aspettate un po' speriamo rispondere chiara ma dove sei? ti aspetto lì in cucina da me che si fa la ricettina proprio al top è più veloce che puoi oh me lo voce me lo faccio a te sei anche all'ultimo minuto ma il luca è qui vicino eh ho capito ma il luca pistola è 40 minuti ci vuole allora facciamolo io nel frattempo ho messo a mano un baccalà guarda quindi oggi pesciolino baccalà la livornese allora chiarina adesso fate la salsa al comodoro? eh certo io ho fatto la giornata che è la salsa al comodoro andiamo se fa la salsetta anche un camicia e olio salsa al comodoro voilà che spettavolo ragazzi eh che spettavolo ah che dolore visto che ci siamo anche due livetti gira la ruota gira la... che chef infariniamo il baccalà frige ma quanto tempo ci mette? ma non mettici un diso bene